mamma vieni a fare colazione, vieni no dai, come no dai, come no dai, come no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che colore devi prendere? Pink. Pink. Mare, che colore? Bravo. Pink. Pink. Qual è il palloncino pink? Lo so io. Come vedere? Quello più piccolo. Qual è? Mare, ti ha sognato tu il palloncino. Sì. Bravissimo, quello. Pink. Giusto? Sì. E l'altro è? Yellow. Yellow. Finisci, dai. Finisci la tua scheda. Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovissimo vlog. Allora, come avete visto, ormai per me sono le 5 e mezza di sera, però come avete visto vi ho mostrato appunto un pochino della mia mattinata. Pochino, un pochino, non tutto. Ho fatto un po' di servizi a casa, soprattutto sul piano superiore. In realtà ieri, che per me era domenica, ho pulito bene a fondo tutte le stanze, approfittando che c'era mio marito a casa che si teneva a Marek. Però oggi ovviamente gli ho dovuto dare la pulita giornaliera, quindi rifare i letti, far arieggiare e passare l'aspirapolvere per terra. E a proposito di aspirapolvere, vi voglio mostrare quello che avrete sicuramente già visto, che è il mio nuovo aiutante. C'è Marek giù che sta guardando la tv, se sentite ride. Ha voluto che gli prendessi anche mamma, ho riperso l'aereo e gliel'ho preso perché si diverte un sacco. Poi ragazze, deve passarsi 10 giorni. Non è che possiamo fare schede, lavoretti tutto il giorno. In più siamo anche in dad e quindi ci siamo collegati già due volte con le maestre. Ci colleghiamo due volte al giorno, alle 10 e mezza fino alle 11 e mezza e dalle 14 e 30 fino alle 15 e 30. E questo per lui è importantissimo perché lo tiene un sacco impegnato. Aspettate. Ok, scusatemi, rieccomi, vi stavo dicendo che comunque lui è contentissimo e gli fa bene perché lo tiene impegnato, ci tiene impegnati in realtà. Così sappiamo che le 10 e mezza ci dobbiamo collegare, le 2 e mezza ci dobbiamo collegare. Io ho anche uno sprint in più per darmi una mossa a fare le cose e lui è contento. Poi abbiamo fatto una scheda insieme, insomma, la giornata è passata e poi il suo obiettivo è andare a vedere mamma ho perso l'aereo oppure mamma ho riperso l'aereo, lo sa a me moriamo, se lo guarda sempre e si ammazza sempre dalle risate. Comunque questo stiamo facendo nella nostra quarantena, tra giochini, tra lavoretti, tra dad e un po' di tv ovviamente che ci sta. Sta passando. Comunque ragazzi vi volevo far vedere questo robottino che io ho posizionato su al piano superiore. Adesso vi giro la videocamera, aspettate. Ecco qua, scusate la poca luce ma ormai è buio praticamente. Allora, questo è il robottino della Yedi, sicuramente l'avrete già visto e ne avrete già sentito parlare. Io vi lascio qua sotto il link in info box se volete andare a dare un'occhiata. Tutte le recensioni sono ultra positive e io mi sto trovando bene. Mi è arrivato già da qualche giorno, lo sto utilizzando e mi sto trovando benissimo. E come avete visto io lavo il pavimento in parquet perché questo robot può solo aspirare o aspirare e lavare. Fare le due cose contemporaneamente. Si può anche scaricare l'applicazione e attaccare al wifi. Io non lo faccio perché non ne sento la necessità, però ovviamente se voi volete farlo potete comandarlo anche dal telefonino, dal cellulare. E in più questo allora si apre ed è comodissimo perché qui all'interno, come avete visto, ha il pennellino per poterlo pulire, per poter pulire il serbatoio. Questo è il serbatoio della sporcizia, della polvere insomma, di quello che si raccoglie per terra. Adesso vi faccio vedere che cosa ha raccolto in camera da letto e in insomma tutto il piano superiore. Perché grazie a Dio non è tantissimo, però io ho aspirato ieri, io ho riaspirato oggi e comunque non è poco. C'è anche il tappeto della cameretta di Marek. Comunque questo si può pulire facilmente, si apre da questo lato qua, basta premere questo pulsante e si apre tutto il... Questo lato qui si apre e si può pulire e lavare e c'è anche il filtro che si può lavare. Adesso poi vi faccio anche vedere come si fa. In più, aiuto, ok, in più qui abbiamo il serbatoio dell'acqua con il nostro panno per lavare a terra. Allora, questo è il serbatoio dell'acqua che adesso è vuoto perché io stamattina l'ho fatto sia aspirare che lavare. In più, come avete potuto, credo, vedere dal video, fa una lavata comunque abbastanza stretta, il che per me è ottimo per il pavimento in parquet che, come ben sapete, non è tanto amante dell'acqua. Comunque, qui c'è il suo panno qua sotto che va applicato al... vedete com'è bello zozzarello? Va applicato qui sotto e poi qui abbiamo appunto lo scomparto dell'acqua dove ci andiamo a mettere l'acqua e io gli metto anche il detersivo. Ne metto giusto una goccia, ma lo metto. E poi si va a rimontare qui sotto, così. Voilà, con un clic è fatta. Allora, vi faccio vedere come si apre, basta cliccare qua Aspettate che... Ok, e tirate su Andate a svuotarlo E con il pennellino vi aiutate a pulire il filtro Vi passate tutto il pennellino qui e pulite il filtro che poi va anche lavato ovviamente E fatto asciugare E poi andiamo a riposizionarlo nel nostro amico robot Voilà, e il nostro robot è pronto per poter ripartire e lavorare Ah, questo qui è il codice QR per l'applicazione, ragazzi Comunque chiudiamo Ecco qua Poi ha la sua base di ricarica Che comunque non occupa per niente spazio Perché come vedete è molto compatta Quando lui ha terminato di pulire Torna nella sua base di ricarica La prima volta che lo accenderete Lui farà l'ispezione, insomma, di tutta la casa Di tutta la parte dove volete farlo andare Così lo prenderà in memoria Prenderà in memoria tutto il percorso della casa Nel mio caso prende in memoria tutto il piano superiore Perché lo faccio andare solo qui su nel piano superiore Perché per fortuna per il piano inferiore ne ho un altro Con la quale mi trovo comunque benissimo Ma questo qui ha la comodità di non avere sacchetti Non avere niente Cioè voi basta che appunto aprite qua Lo pulite, lo lavate e via Stop Io mi sto trovando una favola È davvero un aiuto Cioè praticamente voi lo attaccate Vi fate le vostre cose E lui va, vi espira per terra e vi lava per terra Poi ha una buona potenza di aspirazione Ed è ottimo Perché come avete visto raccoglie su un sacco di cose E in più il pannetto si può lavare in lavatrice tranquillamente Questo è quanto ragazze Vi ricordo che vi lascio tutto qua sotto in info box Cioè, guardate cosa mi ha appena dato il mio bimbo Guardate che mette fuoco Mi ha fatto un cuoricino e mi ha scritto ti amo Come faccio a non emozionarmi amore mio Sono messa il pigiama Ma non è di questo che vi voglio parlare Ma bensì ho appena fatto un guaio Sapete che dovevo accorciare anche le tende della camera da letto Bene, le ho cambiate Queste qui le ho lavate, le ho stirate Queste qui rosa E ora sono andata ad accorciarle Peccato che ho sbagliato a prendere la misura Quindi le ho fatte troppo corte E sono inguardabili Adesso vi faccio vedere Eccole qua Tutte pronte? Guardate al caos che c'è sul letto Perché ho piegato i panni Tadà Cioè, io proprio le tende Così non le posso guardare Ho sbagliato praticamente Ho fatto troppo corto E sono uguali come altezza Ma ci sono 8 cm dal pavimento Cosa che per me è inammissibile Cioè, io le preferisco lunghe Che vi dico la verità Lunghe non è che mi dispiacciono Però non sono comode Non sono pratiche Si sporcano troppo sotto E non mi piace Anche se adesso si portano molto lunghe Ma così sono proprio indecenti Cioè, sono bruttissime Guardate da lontano Aspettate Io è la prima cosa che vedo appena entro Sono queste tende così Fanno ridere Sono davvero brutte Non mi piacciono Adesso non so se facendo un lavaggio Questo cosino qua si stacca Ma dovrebbe staccarsi Penso Altrimenti ho rovinato le tende Secondo me si stacca comunque Però c'è proprio brutto Che brutto Adesso ne ho messa solamente una dietro Così e non l'ho tagliata Anche questa C'è tagliata Non l'ho accorciata Anche questa vorrei accorciarla Ne vorrei mettere due Ma Mi sa che adesso Adesso no Perché non ho voglia Domani Le tolgo Queste qua Vediamo se riesco a recuperare La situation E altrimenti E altrimenti rimetto solo queste qui E boh non so Mannaggia Come posso fare Io aspetto che magari qualcuno di voi Mi dia un aiuto Meno male che io non le taglio Perché so che Non sono in grado Quindi per fortuna Non le ho tagliate Quindi Vedete Io le ho Attaccate così Anche un po' maluccio Però vabbè E niente Per fortuna non le ho tagliate Quindi secondo me Si stacca Bisogna solo vedere Un attimino Come fare Se no le posso mettere In cucina Perché in cucina Sono della misura giusta Invece qui Il bastone L'abbiamo appeso Più alto Io mi ero dimenticata E ho preso la stessa misura Di quelle che ho preso In soggiorno Cioè 31-33 cm Adesso non ricordo benissimo Ma qui ci andava Molto di meno Mannaggia Infatti non le ho misurate Proprio convinta Che ci fosse bisogno Di farlo In realtà C'era bisogno Di farlo Vabbè E niente Pazienza Adesso vediamo Appunto domani Se posso riparare Altrimenti Le metto in cucina Solo che ragazze Metterle in cucina Cioè Io voglio fare Tutto l'ambiente bianco Poi le tende rosa Queste mi stanno Proprio di camera Da letto Al massimo Il soggiorno Ma in cucina Proprio no Quindi vediamo Cosa posso fare Poi sono molto romantiche Non badate la cabina armadio Che è sempre un disastro Sono molto Cioè un rosa romantico Mi piace Ma è brutto No 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 Che poi la camera da letto È l'unica stanza Che ho lasciato In stile Shabby In stile Romantico Diciamo così Perché mi piace Perché mi piace Proprio averla così Però No Se può non guardare Niente Vediamo domani Di riparare il danno Non guardare È bruttissimo Non piace Comunque voglio mostrarvi Oltre Marek Che guarda mammo Riperso l'aereo Prima di andare a nanna Il macello Che c'è Dopo cena A casa mia Cioè praticamente Qua si pulisce Non stop Si pulisce La mattina Il piano superiore Perché bene o male Il piano inferiore Ragazzi io lo faccio Quasi sempre la sera E poi si ripulisce Il pomeriggio Dopo pranzo Si pulisce di nuovo Il piano inferiore Poi si va su Si sistema tutto il macello Che si fa Quando i bimbi Sono a casa Che è normale Giusto così Poi si fa la cena E si sistema Dopo cena Quindi via I bagni ovviamente Tutti i giorni Insomma qua Non se finisce mai È vero Marek? Comunque guardate La differenza A parte il macello E le buste Con la legna dentro Perché la devo travasare La differenza Delle tende A filo Sul pavimento E quelle là di prima Quelle della camera da letto Non vedo l'ora di sistemarle Domani le levo Via via Perché non le posso guardare Non le posso proprio vedere Comunque Niente Io metto un po' in ordine Ragazze Levo questo macello Ciao a tutti i giorni 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 Tutto pulito Finalmente Io vedere la casa così in disordine Mi dà un fastidio Immenso comunque La cucina è pulita Anche qui ho già abbassato pure le sedie Piccolo Vuoi far vedere il tuo bracciale? Hai ragione Allora Marek oggi Ho fatto la pasta colorata Si è asciugata un po' E abbiamo fatto il bracciale Vado a vedere, vieni Allora oggi Marek insieme alla sua mamma Cosa ha fatto? Abbiamo colorato la pasta In realtà ne abbiamo colorato anche dell'altra Ora aspettiamo che si asciuga E abbiamo fatto questo bracciale Questo si Ma anche l'altra secondo me si è asciugata amore E qui c'è l'altra pasta piccolina Che abbiamo colorato Di tantissimi colori Vero amore? Poi Marek si è divertito a mischiare I colori Comunque domani faremo un altro braccialetto Che ne dici? Si Si, ti sei divertito a fare il braccialetto oggi E a colorare la pasta piccolina? Domani lo vediamo in questa pasta qua Domani coloriamo dell'altra pasta? Si, in questa pasta qua Quella l'abbiamo già colorata amore No, si sta Si sta scolorando Si sta scolorando Vedi a passare il volume della tv mamma che è alto Comunque ragazze volevo anche chiedervi un consiglio Allora, io ho questa parete totalmente vuota E quella parete dove gli ho messo sopra un quadro Questa parete la voglio lasciare vuota Non voglio assolutamente riempirla Perché avendo già comunque una dispensa da quest'altro lato Qui, abbastanza importante Che ricopre tutta la parete Un bel frigo grande Io quella parete la voglio lasciare assolutamente vuota Libera Così, semplice L'unico mio dubbio è la parete vicino al termosifone Che in realtà Non so se lasciare semplicemente il quadro Poi più avanti gli andrò a cambiare la stampa Adesso questo è anche abbastanza invernale Non è solo Come posso dire Non è solo natalizio Secondo me è prettamente invernale Quindi per ora rimane quello Poi appunto in base alle stagioni Sapete che io adoro cambiare le stampe Però avevo pensato qui di mettere O una mensola in legno Lo stesso colore del tavolo Bella spessa Qui sul termosifone In modo da appoggiare Una pianta Una candela Boh, non lo so Oppure addirittura Di eliminare il quadro E di mettere Una serie di tre Mensole Sempre color legno E non bianche Molto simili al tavolo Comunque Sentite come rite E magari messa Mi piace proprio questa parte Qui assolutamente voglio prendere Un pezzo di mobile Ma ve l'avevo già detto Voglio farlo fare su misura Uguale ovviamente alla cucina Da coprire qua In modo che il frigorifero Sembra incassato E al massimo Qui faccio mettere Una porta Finta Abbattere questo muro E fare il bagno più piccolo In modo che ho Almeno un metro E passa Se non sbaglio Un metro E dieci Ora non mi ricordo Dovrei prendere la misura In più di spazio Forse anche qualcosina In più E secondo me Sarebbe ottimo Davvero ottimo E mettere il tavolo In orizzontale E non in verticale Secondo me sarebbe Bellissimo Davvero Secondo me sarebbe Divinamente Questa tanto è una cosa Che se nel caso La dovessimo mai fare La farò Quando andremo ad eliminare Qui lo scalino Nell'anno del poi E nel mese del mai Perché servono tantissimi soldi Per fare queste cose E poi vorrei cambiare La pavimentazione Se cambio Se tolgo lo scalino Cambio la pavimentazione Cambiamo anche le piastrelle Però veramente Vi ripeto Nell'anno del poi E nel mese del mai Quindi Chi lo sa Comunque Spengo qui Così Opla Andiamo a dormire? Non finisce mai Dai amore Quando finisce? Non finisce mai più? Ragazzi Io adesso chiudo qui il video Spero di avervi tenuto compagnia Spero che vi abbia fatto piacere Passare questo mercoledì mattina Mercoledì pomeriggio Giovedì Non so quando guarderete Questo video sarà Mercoledì quando uscirà Ma non so voi quando lo guarderete Comunque Spero vi abbia fatto piacere Passare 20 25 Non ho idea di quanto durerà il video Minuti insieme a noi Ormai per noi Questa è una nuova routine Perché appunto Essendo in quarantena Le cose un po' Cambiano Un po' tanto 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 Però vi devo dire la verità Per adesso Che siamo al giorno Allora abbiamo iniziato Venerdì sabato Domenica lunedì Giorno 4 Dai non sto patendo tantissimo Neanche Marek sta patendo troppo Perché comunque ci stiamo trovando sempre Qualcosina da fare Niente ragazzi Vi mando un bacione E noi ci vediamo venerdì Con un nuovissimo Vlogmas No Marek i vlogmas Sono finiti Vlog Vlog Dammi un bacino Ciao Followings E ci vediamo sabato No venerdì Venerdì A venerdì E ci vediamo un video nuovo Ciao Followings